Intanto per me è stato estremamente importante avere una delle tre tappe della presentazione del primo report reale su quello che è il commercio del contrabbando del tabacco e delle sigarette elettroniche. Io credo che questo momento d'incontro, grazie anche a quelli che sono stati gli interventi, in particolare della Guardia di Finanza, della Philip Morris e di Eurispes, che ha preparato veramente questa formula vera e propria insieme all'Osservatorio Agromafie abbia avuto un significato estremamente importante. Intanto è stato importante cominciare anche a ricordarci che quello che pensiamo sia lontano, il concetto del contrabbando nel movimento delle mafie e delle agromafie in particolare, in realtà purtroppo muove ancora oltre 250 milioni di euro all'interno del nostro sistema. È stato importante anche ricordare che l'Italia in particolare è sicuramente tra i più grandi produttori europei, in particolare credo che la produzione nostra, che è oltre il 30% dell'Europa, sia a significare ancora la necessità di un'attenzione particolare come questa.